Pronto, le squadre ormai sono pronte, disposte per fare l'ingresso in campo, sono le 14.27 quindi ancora tre minuti, a me piace sempre sottolineare la puntualità e in effetti nel calcio, le partite hanno sempre una puntualità eccellente, le squadre le conosciamo, la Feral Pissarò è un total white con i numeri blu, l'Udinese, una maglia non mi viene il colore però agli altri abbiamo già dei problemi abbiamo già dei problemi grazie Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.